Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un mio nuovo video, io sono Nicolas24 e benvenuti ragazzi su Rocket League stagione 5 lo so ragazzi la stagione 5 già è uscita da un po' e io ve la porto un po' in ritardo perché in questi giorni non stavo giocando molto a Rocket League anche se è tra virgolette il mio gioco preferito, però ragazzi prima di iniziare il video volevo ringraziare un mio iscritto che si chiama Daniele che mi ha fatto questo ritratto bellissimo di me con Perla, veramente grazie a Daniele, c'è pure la firma, mi ha fatto la firma e io ci ho aggiunto questo coso che è tipo un coso che si appende, alle cose si appende e lo appenderò ragazzi quando mi fanno dato un regalo oppure qualcosa lo appenderò sempre lì dietro, lo vedete quel coso vicino al coso del mobile lo appenderò sempre lì ragazzi così in tutto il video vedrete proprio il regalino che mi ha fatto lì scritto appeso aspetta, appeso, là è bellissimo, ora lo appendo un attimo e ci vediamo una volta con l'appeso quindi ragazzi come ben vedete lì si trova il disegno, non si vede molto bene perché comunque sto in controluce e quindi il disegno si vede un po' così così, però ragazzi comunque il disegno sta là dietro appeso quindi non mi dite niente, il disegno ci sta e basta comunque potete anche notare la seta da gaming qua ragazzi che ho comprato se vi siete persi il video andatela a vedere, lo trovate sul video sul mio canale dove proprio c'è scritto andiamo a ritirare un pacco no veramente il video non si chiama così, si chiama la mia nuova seta da gaming ma va bene comunque ragazzi ci sono la trusola god league, andiamo immediatamente a giocarci una partita la prima partita ce la giochiamo in coppia perché, perché mi voglio un po' riscaldare la partita in coppia, una bella partita tranquilla in coppia, ok sta iniziando 3, 2, 1, vediamo un po' contro che giochiamo contro chi vuole che cosa non giochi, mamma mia, vediamo un po' perfetto ragazzi, guarda un po' dove siamo, guarda dove stiamo, guarda ok, ci troviamo proprio in partita, eh, 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 ragazzi non gioco in rocket league dal 1800 io oh, 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 mi hanno colpito, mi hanno colpito, mayday, 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 mayday oh, mamma mia che contrasto di palloni siiii, god, ho fatto un assist a casa, god, mamma mia in ritardo a dire con la 24 su rocket league, boh, 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 boh ok, saltiamo perché, mo sicuramente questi qua non salteranno eh, avete capito, no, c'ho la cuffia messa a storta, la cuffia messa a storta, raga la cuffia messa a storta che mi dava fastidio perciò non ho segnato prima, segnate il mio alleato eh, ragazzi ho la cuffia messa a storta, eh, lo faccio un po' così per sistemarla contrabalzo, mamma mia, attenzione, 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 attenzione oh, aspetta, tiro, siiii, ok, devo approfittare per aggiustare la cuffia, raga aspetta, oh, ok, perfetto, l'ho aggiustata, ora sono più forte del prima ho una sitriarda, maledizione allora, devo tenere anche d'occhio il mio microfono perché se si smi, eh, avete capito, se si fa col microfono dopo un problema audio e io non voglio problemi audio nei miei video mamma mia, i problemi audio mi danno troppo fastidio nei video maledizione, connection, problemi audio, ok boom! no, maledizione, il tiro era storto, il tiro era storto un bel tiro, peccato che era abbastanza storto oh, 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 oh mannaggia, raga, mannaggia, si ritorna a sclerare su Rocket League a quanto pare speriamo che non sclerò oggi perché si sclerò, perché è pure sera oh, portiere, che capo fai? Portiere, mamma mia, ho schivato quello in volo Bellissimo Mandiamo la palla Andiamo sulla fascia Perfetto, così No, la volevo mettere in mezzo Maledizione Ah, pensavo che ho calcolato male Raga, ho calcolato male la traiettoria della palla Nessuno la prende, ne approfitto io per prenderla Ah, l'ha parato il portiere Oh, alleato Alleato Oh, no, me la sto buttando in porta da solo No, va bene Ok, bravo Un trofeo ti devo dare Oh Non c'è credo, ho segnato così il mio alleato Ma che è oggi, raga Ma stanno succedendo tutte le cose fighe a noi Guarda com'è segnato Ho segnato totalmente a casa, però Era tipo una spazzata, però ho segnato anche nello stesso momento Quindi, gg per il nostro alleato Andiamo a vedere Stavolta sto di porta, va? Stavolta sto di porta, magari la paro Magari la paro Vediamo un po' che succede Ok Mi sa che non mi hanno fatto manco un tiro Quindi mi sa che non la paro Aiuto Eh, raga, sono freddo Della mia prima partita Ok Mi sa che questo video lo editerò proprio Con gusto Perché c'è ritornare su Rocket League A Rocket League C'era bisogno di ritorno su questo gioco C'era bisogno di risclerare su questo gioco Vai Oh Ma che ha tutti questi spintoni? Mamma mia Che tryharding Tryharding a livello massimo Oh No Volevo fare una provata, raga Non so se avete visto Oh, abbiamo segnato Ho fatto pure un artist Guardate qua, ragazzi Andavo a fare Guardate sotto Guardate sotto Non guardate a me Guardate che gol Guardate Che gol Bellissimo Bellissimo Vai Stiamo bestemmiando pure Guardate come stiamo bestemmiando Ok Io non commento Perché non voglio commentare Perché dopo mi insultano a me E ora non ho fatto niente Oh Caponesco Ma che sono? Ma che è Nicolas24? Il toro? Il toro? Voglio uno spam di emoticon del toro Qui sotto nei commenti, raga Ultimamente YouTube sta bloccando i commenti Ma io li rettiverò Giorno dopo giorno Solamente in questo video Perché proprio Voglio uno spam di emoticon Ah Volevo fregargli la parata Andiamoci a raccattare un turbo Oh Oh Gol Dai Volevo raccattare il turbo Oh Ma questa partita non è proprio combattuta Non è bello così Perfetto ragazzi Si sta Riniziando qua Perfetto Due minuti mancano al termine di questa partita Di questo match Però credo che questi due minuti Li stravincevano noi Anche perché stiamo vincendo Sei a zero Oh Andiamo 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 Eh uno C'hanno bassissimo ping Oh io ho il ping buono Zitti tutti che c'è un buon ping Oh Bitch Get out of the way Bitch Get out of the way Bitch Get out of the way Vabbè raga Questi come hanno scritto bel tiro Quindi io gli scrivo grazie L'unica mia frase detta in questo match Grazie Perché grazie è la parola dei santi Grazie proprio Che verso ho fatto Da notare la mia Gli ho deviato il tiro Gli ho deviato il tiro Deviato proprio A stile Maradona Tra l'altro raga Qualche giorno fa Era il compleanno di Maradona Quindi Questa vittoria La dedico a lui Anche se è un gioco Sempre calcio si tratta Quindi Viva Maradona Attenzione Non devono segnare manco un gol Ma Google Ho visto Maradona Vai raga È ora di partire Partiamo Partiamo Oh io sarò un po' in porta Vediamo che succede Per sfotterli un po' Vediamo se tirano Tirano i ragazzi Eeeh Hanno proprio sbagliato forte Hanno proprio sbagliato forte raga Ora in questi giorni Mi rimetterò a giocare a Rocket Perché devo giocare un po' a Rocket Cioè raga Ho iettato Aaaaa Ho fatto un salto Della malizia proprio L'ho fatto malissimo Sto salto Non lo voglio rivedere Manco nel video Proprio raga Bipperò questo salto Però me ne frega niente Lo bippo raga Sto salto Aaaaa Non sanno fare un ca E poi vengono a insultarci Ma sono loro Che non sanno fare niente E poi ci insultaranno a noi Cioè avete capito Rocket League Sta diventando un gioco Oe l'ho parata Zitto a tutti Che l'ho parata Dai lasciamogli Questa opportunità Dai dai Fatemi sotto Fatemi sotto Che non vi siete a fare sotto Eh 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 Oh 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 Sì 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 Che gol Che gol Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio GG raga Vittoria Proprio vittoria Boom Una vittoria Proprio boom Guarda qua Buu Raga ma chi siamo Ah Oh raga Come sono rimasta La macchina è rimasta così Oh mio Dio ragazzi Bella 65 tra l'altro Ma non sapete una cosa Ci vediamo In questa prossima partita Che faremo E la faremo In uno Versus uno Perfetto ragazzi Come ben vedete Si sta avviando Questa partita Mi sa che questo video Ci metterò un po' Per editarlo Perché voglio farlo Bello Questo video Voglio fare anche Una bella miniatura Quindi Oh eh Partiamo Io contro Pikzu Pikzu Non lo so Aspetta Come si chiama Precazus Un qualcosa Precazus qualcosa Si chiama il tizio Va bene Mi voglio impegnare Raga in questo game Perché Perché sì Ah L'ho tirata malissimo Vabbè Non ho problemo Oh non c'ho più il turbo Devo andare lateralmente Aaaaa Oh non c'ho più il turbo